Abbiamo fatto tanti sacrifici per riuscire a far vivere la città, a portare tanti di questo. Però sto sicuro che ce la faremo, ci riusciremo, dobbiamo avere fiducia e recupereremo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ora rispettiamo le indicazioni e le prescrizioni che ci arrivano dalla cabina di regia, perché più rispetteremo le prescrizioni più ci metteremo velocemente alle spalle questa.